Forza libera! Forza libera! Forza libera! Se non uniamo tutte le nostre forze degli onesti per diventare una forza! Questa non è una manifestazione, questa è una mobilitazione perché non voglio metterci la sua faccia, tenere con la sua faccia, dire da che parte sta! Ma l'essere in tanti è per dire che insieme vogliamo disinescare questa miccia della paura, della rassegnazione e della delega che guardate la cosa più pericolosa, il pensare che tocca sempre altri fare! Lo so che non è semplice, ma siamo venuti qui tutti insieme per riportare al centro della società i valori positivi, profondi e perché questo avvenga è necessario agire tutti insieme, tutti insieme! Qui si vive e si sente, lasciatemi lo dire, uno spirito nuovo! Mafie e corruzione non possono nulla contro la forza di una comunità solidale che unita difende la libertà e la giustizia! Difendere la libertà e la giustizia vuol dire difendere la vita, la vita! Abbiamo camminato per la vita! Grazie! Grazie! Grazie.